Abbiamo una fragilità delle infrastrutture che sicuramente diventa sempre più grave e con l'obiettivo di meglio lungo termine che è ancora lontano perché la Torino-Lione si parla del 2032 ma l'economia non può attendere. Dal Frejus la chiusura da lunedì per tre mesi del Monte Bianco all'attesa per il Tenda BIS. Se l'export fra il Piemonte e la Francia è cresciuto di oltre il 20% negli ultimi cinque anni la situazione delle infrastrutture allarma gli operatori economici. A Torino la Camera di Commercio promuove un convegno sulla cooperazione fra Italia e Francia. Cresce la pressione per accelerare i tempi sul Frejus. Il collegamento ferroviario è interrotto da fine agosto dopo la frana sul versante francese. Parigi stima possa riaprire a giugno. La delegazione italiana ritiene dopo un sopralluogo che i tempi si possono accorciare. Se, come dicono, si partirà già dalla prossima settimana sarà possibile intervenire sul versante per la messa in sicurezza prima dell'inverno. Dopodiché i lavori sono possibili a questo punto anche durante l'inverno all'interno della galleria. L'importanza di migliorare i collegamenti ribadita da Andrea Agnelli, presidente dell'Istituto Oncologico di Candiolo, di cui viene presentato un progetto di cooperazione con due centri di Lione. Sulla sanità l'asse Torino-Lione si rafforza anche con l'interscambio di giovani ricercatori. Affinché si possa creare veramente una comunità scientifica giovane che possa portare i nostri risultati fuori dai confini, ma nel contempo che rafforzi la possibilità di avere anche un sostegno economico istituzionale da parte dell'Europa.